vi sono piaciuti molto, ovvero il vlog 0 e il vlog 1, ho deciso di farne un secondo. In questo video vi mostrerò tutti i miei acquisti. Siccome in quest'ultimo periodo sono andata per i negozi, ho deciso di mostrarvi tutto quello che ho acquistato. Prima però vorrei mostrarvi un regalo che mi ha mandato mio padre. Ecco, ce l'ho quasi fatta! Tadam! Un attimo che aggiusto la telecamera. Perfetta! Oh, non lo trovate super coccoloso? Inoltre guardate, se mi mette in ginocchio è più alto il pupazzo di me! Ti voglio bene Olaf! Infatti, come avrete notato, rappresenta il tizio laggiù. Olaf! Olaf! Lasciando stare. Vabbè, per il momento l'ho messo di lato. Poi, quando farò il vlog dove mostrerò tutta la mia stanza, che ovviamente condivido con le mie sorelle, vi mostrerò anche dove lo tengo. Bene ragazzi, è finalmente arrivato il momento di mostrarvi i miei acquisti! Yeah! Ok ragazzi, aiuto! Ok ragazzi, il primo, anzi, i primi due dei miei acquisti che ho fatto questa settimana sono due bellissimi cuscini. Eccoli! Ok, ammettetelo, sono o non sono? Adorabili! Non vi ricordano qualcuno? Esatto! C'è questo, che rappresenta mia zia Anna, che sarebbe la principessa. E questo, mia madre Elsa, che appunto sarebbe la regina. Sono comodissimi! E per dormire o fare dei riposini sono ottimi, guardate! Mi viene quasi voglia di dormire! Comunque, dopodiché ho preso delle bamboline bellissime. Eccoli qua, sono bellissimi! Il mio preferito in assoluto è questo qui, guardate che bello! Ha questa faccina da duro adorabile. Ma per il resto sono tutti adorabili. Dopodiché ho preso uno skate. Eccolo, vi piace? Mentre da dietro è così. Non vedo l'ora di imparare a usarlo. Aia, mi sono fatta male! Ok, forse per lo skateboard è meglio aspettare un po', ancora non sono tanto esperta. Comunque, poi ho preso una borsetta. Eccola, vi piace? A me sì, tantissimo. È molto molto carina. Dopodiché ho trovato alcuni personaggi, alcuni giochini di un film che io adoro. Non so se lo conoscete, si chiama Angry Birds. Sono riuscita a trovare questi personaggi più qualche uovo. Poi, sempre parlando di Angry Birds, ho acquistato altri pupazzetti. Eccoli qua, sono bellissimi! Peccato che sia un po' difficile tenerli tutti insieme. Comunque, ci sono due maialini che sono uno diverso dall'altro e sono bellissimi. E poi ci sono Stella, quella rosa, e Terence, quello rosso. Inoltre, per finire con gli Angry Birds, ho preso anche dei mega portachiavi. Belli, vero? E infine, ragazzi, per concludere tutti i miei acquisti, ho preso tre poltroncine da poter mettere in camera mia. Ovvero, questa, questa e questa che è la più tenera. Guardate, è semplicissimo. Basta che io mi metta qui fra le due gambine, vedete? Molto molto tenere. Ed è fatta una fantastica poltrona. Comodissima! Quindi, ragazzi, spero che questo video dove vi mostravo tutti i miei acquisti vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti se ne vorreste degli altri di questo tipo. A breve farò anche il piccolo tour della mia camera, visto che, insomma, è un po' tutta particolare. E mi raccomando, continuate a seguire i miei vlog per essere sempre aggiornati. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!